Diego Armando Maradona è diventato nonno. L'annuncio da Barbara D'Urso Barbara D'Urso, annuncio esclusivo in studio, Maradona è diventato nonno. In collegamento con lo studio di Barbara D'Urso che è stata oggi l'ex compagna di Diego Armando Maradona, annunciata dalla presentatrice come portatrice di un notizia veramente esclusiva. A Domenica Live si parlava di scontri tra genitori e figli, ma l'annuncio dato da Cristiana Sinagra ha rotto ogni polemica, la donna infatti stava dichiarando la bellissima notizia, quando però è stata Barbara a interrompere le sue parole. La D'Urso ha infatti dichiarato che voleva che fossero i diretti interessati a dire la cosa, e ha quindi mandato in onda una clip. Nel video, Diego Armando Maradona e Lunga R insieme alla compagna Nunzia Pennino ha sottolineato che la prossima volta che verranno in studio dalla conduttrice napoletana saranno in tre, mentre diceva queste magnifiche parole, il figlio del calciatore accarezzava teneramente la pancia della ragazza. Insomma la famiglia di Maradona si allarga, come l'avrà presa Diego Armando Senior? È stata direttamente la sua ex compagna a rispondere a tale cose, dicendo che Maradona è oggi al settimo cielo e inizialmente quando ha saputo la lieta notizia non riusciva a crederci, per poi alla fine commuoversi. Diego Armando Maradona e Lunga R annuncia da Barbara D'Urso di essere diventato padre. Barbara D'Urso inoltre ha chiesto all'ex compagna di Maradona che cosa fosse successo questa estate. In numerosi giornali di gossip erano infatti uscite le foto di una famosa cena in cui presenziavano felici e intimi sia l'ex calciatore, che la donna che Diego Armando e Lunga R. Che è stato forse un ritorno di fiamma? Niente di tutto questo. Cristiana ha infatti affermato che dopo gli anni di dolore, ora il rapporto con Diego Maradona va a gonfia vele, i due si vogliono bene e condividono una relazione bellissima ma sono pur sempre solo amici. Inoltre, la Sinagra ha precisato che è stata proprio la lieta novella annunciata dal figlio ad aumentare l'affetto e il rispetto che vi era tra di loro, insomma, non si diventa tutti i giorni nonni. Infine, la donna ha detto che non riesce a trovare le parole per descrivere il suo stato daneno attuale, in quanto lei e i suoi cari hanno raggiunto una serenità e una pace fondamentale che ci dovrebbe essere in qualsiasi famiglia. Diego Armando Maradona e Lunga R. Insieme alla compagna saranno ospiti di Barbara Durs una volta che la donna partorirà, e quindi molto probabilmente li potremo vedere in studio a Domenica Live durante una puntata del prossimo anno. Ciao!